Perciò tu, perciò comprami, perciò comprami, perciò comprami, la cosa da mangiare, la cosa da mangiare. Oggi non so dove andare, anche un po' tu lo sai, oggi non so dove andare, e domani non so dove andrò. con questa volta no, non ce la faccio più, e non ce la faccio più, non ce la faccio più, o la stomato che America, ad essere un po' di cane, io voglio anche mangiare qualcosa che più c'è tutto, usiamo, andiamo a fare i tiri, striscere, un pallone manzara rossa è quello che ci mora con le patatine picorina picorina e non sono due andro e non sono setor neroc e tu che dici adesso aspetta che è già sordi devo mangiare almeno un po' almeno un po' è già stato almeno un po' per lavorare il tuo fame coccadina a mangiare coccadina a mangiare coccadina a mangiare cari se non vado io andiamo tutti quali tutti c'erì ci sono due patatine e pallaranda quello che mi piace di più che mi piace di più che 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 che